Il nostro pianeta nasconde ancora tanti misteri. Primo fra tutti, quello che riguarda i suoi abitanti meno noti. Ogni tanto siamo abbastanza fortunati da catturare delle istantanee che ritraggono le creature più bizzarre sul nostro pianeta. Dagli animali ai mostri alieni, passando per i fantasmi. In questo video vi proponiamo 13 immagini che testimoniano le loro apparizioni fugaci. Numero 13. Fantasma in autostrada. Quando si tratta di creature spaventose, nulla batte gli avvistamenti di fantasmi in luoghi pubblici. Questo video è stato filmato in Thailandia e ritrae una sagoma umana dall'aria spettrale nel bel mezzo di un'autostrada. L'uomo misterioso si trova nella provincia di Surat Thami ed è stato ripreso dalla videocamera installata sul cruscotto di un guidatore. Alcuni credono che fosse il semplice ritratto di un umano realmente esistente, mentre altri hanno dato l'allarme fantasma. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti. Numero 12. Mostro marino. In questo filmato vediamo la guardia costiera brasiliana all'opera durante un salvataggio. Le autorità si concentrano sul loro obiettivo, ma se voi guardate con attenzione nell'angolo destro del video, potrete notare una creatura misteriosa che nuota sotto il pelo dell'acqua. La comunità virtuale concorda sul fatto che non può essere Nessie, il mostro di Loch Ness, e rilancia con il megalodonte, il gigante del giurassico. Sicuramente non si tratta di uno squalo comune, perché a giudicare dal video misura almeno 18 metri di lunghezza. Non esistono creature terrestri così grandi, quindi deve essere per forza un'entità sconosciuta agli scienziati. Numero 11. Elfo domestico. Come reagireste se una creatura simile ad un elfo vi passasse accanto mentre camminate per la strada? La videocamera di sicurezza sul portico di Vivian Gomez ha ripreso una sagoma che ricorda quella di Dobby, l'elfo domestico della saga di Harry Potter, che ha creato un grande scompiglio sul web. Molti hanno commentato che si tratta della prova visiva dell'esistenza di creature soprannaturali sul nostro pianeta, mentre altri pensano che fosse semplicemente il figlio della signora Gomez con indosso una maschera da elfo. La teoria del ragazzino in cerca di attenzione sui media potrebbe reggere, specialmente per via del ballo sfrenato che fa di fronte alla videocamera. Ma lasciamo a voi l'ultima parola. Numero 10. Alieno all'inseguimento. Proprio quando pensavamo di averle viste tutte, le telecamere di sorveglianza ci stopiscono ancora con una creatura aliena che sembra uscita dalla pellicola della Guerra dei Mondi. Il filmato, registrato nel 2020, ritrae un alieno che striscia velocemente a quattro zampe all'inseguimento di un uomo. Il poveretto corre a perdifiato per scappare alle grinfie della creatura. Un mostro terrificante che non vorremmo vedere nemmeno nei nostri incubi peggiori. Non possiamo sapere se il video sia reale oppure modificato ad arte, perché negli anni molti utenti virtuali hanno cercato di simulare scene incredibili pur di fare audience. Non sappiamo quindi se questo avvistamento alieno apparso sul web corrisponda ad una verità scomoda o ad un semplice tentativo di acchiappare like sui social, ma ci riteniamo comunque terrorizzati. Numero 9. La culla. Quando ha svegliato la figlioletta di un anno dal suo riposino pomeridiano, Heather Brough, 25enne del Michigan, ha notato tre graffi violaci e profondi sulle guance della bambina. Quelle ferite inspiegabili hanno spinto Heather e il fidanzato Josh Higgins, di 30 anni, a controllare le registrazioni del baby monitor nella cameretta della piccola Lily. Nei filmati sembra apparire la sagoma di un uomo e si avvicina rapidamente alla culla della bambina e poi scompare nel nulla. Un video del genere è sufficiente a far gelare il sangue nelle vene di qualsiasi genitore, specialmente se sommato ai graffi tangibili sulla pelle della bimba. Numero 8. Bigfoot. Possibile che un cittadino della Virginia sia riuscito a filmare lo sfuggente Bigfoot? A molti piacerebbe credere alla versione di Randy O'Neill, che ha condiviso sul suo blog le foto più nitide mai scattate al mostro delle montagne. Per una volta non si tratta di una sagoma sfocata che passa velocemente davanti ad una fotocamera. È una creatura simile ad una scimmia, ma sulla terra non esiste un primate di quelle dimensioni. Potete ammirare la sua stazza mentre si staglia sulla riva del fiume, probabilmente per bere. Quando O'Neill ha pubblicato la foto, le emittenti televisive statunitensi hanno fatto a gara per riportare la notizia, connevidendo anche la didascalia scritta dall'autore. Finalmente una foto che non è sfocata e non ritrae una creatura seminascosta dietro un albero. È un'immagine che mostra chiaramente Bigfoot nel suo ambiente naturale. Numero 7. Falena aliena. Se non siete particolarmente appassionati di creature volanti e pelose, vedere un animale del genere sulla parete della vostra camera da letto potrebbe essere un incubo. Se la scienza non ci fosse venuta in soccorso con le sue spiegazioni, probabilmente avremmo pensato subito ad un alieno capitato per caso sul pianeta Terra. Quella che state guardando in realtà è una semplice falena. Il suo nome scientifico è Creatonotus ganghis. È una delle specie più strane nella sua famiglia ed è originaria dell'Australia e del sud-est asiatico. Non è velenosa, ma ha tutto il potenziale necessario per spaventare qualsiasi essere umano. Numero 6. Triops. Non escludiamo troppo presto l'esistenza degli alieni sul nostro pianeta. Potreste aver visto delle creature simili nei vari film di fantascienza che hanno popolato le sale di cinema negli ultimi anni. Ma forse non sapete che gli alieni in miniatura delle pellicole si ispirano ad una specie animale realmente esistente. I Triops sono stati rinvenuti in un lago rosso da un uomo che li ha filmati col suo cellulare. Sembrano avere diverse zampe e tre occhi, caratteristica da cui deriva appunto il loro nome scientifico. Gli esperti sostengono che queste creature esistano da circa 300 milioni di anni. Sono considerate innocue per gli esseri umani, ma ha considerato il comportamento delle loro controparti hollywoodiane. Riteniamo che sia meglio tenerle alla larga. Numero 5. Umanoidi. Non è la prima volta che una creatura misteriosa viene ripresa da una videocamera di sicurezza installata nel cortile sul retro di un appartamento. Alcuni avvistamenti sono senza dubbio costruiti ad arte da persone in cerca di visibilità sui social network. Ma in casi come questi è difficile affermare con certezza se si tratta di realtà o finzione. Se ci fossimo stati noi, al posto del proprietario di questa casa, avremmo fatto le valigie immediatamente e saremmo scappati dall'altra parte del mondo. Nessun umano può avere un aspetto come quello, quindi questa strana creatura scimmiesca deve provenire per forza da un universo oltraterreno. Numero 4. Inseguimento in mare. L'oceano è l'habitat naturale di molte creature inquietanti e misteriose, tante delle quali sono riuscite per anni a deludere i tentativi di contatto degli umani. In questo filmato possiamo seguire da vicino l'incubo peggiore di ogni pescatore. Una creatura con degli occhi rossi brillanti parte all'inseguimento del poveritto, che per fortuna riesce a mettere in moto il suo motoscafo e squagliarsela prima di essere divorato. La barca procede a velocità sostenuta, eppure la creatura non sembra fare alcuna fatica mentre la rincorre. Per il momento gli scienziati non conoscono animali con occhi indemoniati come quelli, perciò possiamo soltanto concludere che si tratta di un mostro sconosciuto e affamato. Numero 3. Vespa gioiello. Ma le creature più spaventose non sono relegate soltanto agli oceani e, soprattutto, non sono sempre visibili a occhio nudo. Alcune di esse, infatti, si nascondono a poca distanza da noi, porti delle loro dimensioni minute e le fanno passare inosservate. L'ampulex compressa, conosciuta anche come Vespa gioiello per via dei colori brillanti, è un insetto incredibile che caccia con un metodo estremamente aggressivo. Una puntura è sufficiente per immobilizzare la preda fino a renderla uno zombie, permettendole di banchettare senza fretta col suo corpo. In questo video la vediamo attaccare uno scarafaggio. Quando capisce di aver l'impugno, la Vespa lo trascina via nel suo nido per nutrirsi. Numero 2. Mostro zannuto. Quando Preti Desai della National Audubon Society stava passeggiando lungo una spiaggia texana, si è imbattuta in una creatura sconvolgente dotata di zanne abbastanza grandi e forti da spezzarla in due. Fortunatamente per lei il mostro era deceduto. Quando la donna ha condiviso la sua foto sul web, il biologo Kenneth Teague dello Smithsonian National Museum le ha spiegato che si trattava di un raro esemplare di Aplatopis caoliodus, conosciuta in America anche come anguilla zannuta. Il suo nome scientifico significa letteralmente serpente terrificante e non avremmo potuto pensare ad un termine più calzante per descriverla. Se fosse stata ancora viva, Preti avrebbe corso un brutto rischio. Numero 1. Nel fiume. In cima alla classifica abbiamo una creatura misteriosa che striscia verso la riva di un fiume. Ha un corpo peloso ma minuto, come una versione ridotta del famoso Bigfoot, ma allo stesso tempo un volto quasi umano che ci fa venire i brividi. Per fortuna, gli esperti hanno confermato che non si tratta di un mostro assetato di sangue, ma di un semplice bradipo. Forse non sapevate che questi animaletti lenti e sonnacchiosi sanno nuotare e che in acqua la loro velocità aumenta leggermente. I bradipi infatti si muovono molto lentamente, usando i grossi artigli per trascinarsi lungo il terreno o arrampicarsi sugli alberi. Quindi, in acqua approfittano dell'assenza di attrito per acquisire velocità. A volte le creature più strane si rivelano carine e affettuose, come questo bradipo, mentre in altri casi sono semplicemente terrificanti. Quale di queste immagini vi ha confuso di più? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime liste pazzesche.